Ragazzi, appena finito la 10 km dalla Venice Virtual Marathon, questa bellissima iniziativa. Nonostante questo periodo difficile di pandemia, correre fa sempre stare bene. Quindi mi raccomando, correte, uscite di casa, fate sport, state alla reperta. Io l'ho corsa qua ad Ivrea dove vivo, anche se sono una ciclista, a me piace fare qualsiasi sport e soprattutto stare in mezzo alla natura, perché lo sport è sempre benessere. E adesso di benessere ce ne bisogna tantissimo, quindi mi raccomando, mai mollare, sempre correre e sempre sorridere. Ciao ragazzi, ciao!